Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Belen Rodriguez ha stupito i suoi fan con un gesto inaspettato, una buona notte senza filtri, completamente al naturale. Dopo le vacanze in Argentina, la showgirl ha condiviso un video senza trucco, incantando i suoi seguaci con la sua bellezza autentica. Tuttavia, il mistero di Elio Lorenzoni, il nuovo compagno di Belen, si infittisce. Dopo essere partiti insieme per l'Argentina, Elio è misteriosamente scomparso dalle storie di Belen al loro ritorno in Italia. Cosa succede dietro le quinte della vita di coppia? Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video. Grazie. Grazie.